ariete lunedì in pessima forma fisica e purtroppo nonostante tutto il tuo impegno al lavoro sarai fisicamente quasi ko e quindi un po a 7 dormici su toro oggi tutto quello che toccherai diventerà oro giornata memorabile al lavoro e non solo gemelli è lunedì forza i pianeti non sono proprio a favore ma sei vivo vivo più che mai oggi ti serve tanto ma tanto sole o tanto caffè per darti una scossa cancro lunedì di solito si pensa al lavoro eppure oggi è l'amore al centro dei tuoi pensieri è l'amore ad importi una decisione leone oggi ogni fatica o rinuncia verrà ripagata e con gli interessi da una grande soddisfazione professionale vergine oggi non sei amichevole e forse c'è lì qualche preoccupazione o ansia nettuno ti aiuterà a fare chiarezza in serata bilancia certo è che questo lunedì comincia con una marcia in più i sentimenti oggi più che mai possono farti vedere le cose con occhi nuovi scorpione un po di vitamine e spremuta di agrumi possono darti una mano serve una dosi di energia extra e gli stimoli di marte forse non basteranno sagittario ottima forma e al lavoro va tutto alla grande ma c'è di più l'amore illumina più che mai la tua vita oggi venere è esplosiva capricorno la stima di supporto dei colleghi non mancherà e sarà fondamentale per fare alla fine la scelta migliore acquario la parte grintosa della settimana comincerà domani oggi lentezza e disinteresse generale non ti renderanno particolarmente brillante pesci la tua creatività il tuo innato e spiccato senso del problem solving ti aiuteranno oggi a risolvere anche i più antipatici imprevisti lavorativi